L'unità didattica è dedicata alla ricerca nello spazio degli stati in un dominio, in uno spazio degli stati in cui le azioni sono non deterministiche e cioè le conseguenze delle azioni possono non poter essere previste completamente a priori. Introduciamo quindi un dominio che possa essere utilizzato per introdurre i concetti. E' chiaramente un dominio giocattolo che è solo per scopi didattici. Lo introduciamo adesso e poi lo riutilizzeremo anche nel modulo che sarà relativo alla pianificazione. Dunque abbiamo uno scenario in cui esistono due stanze, due luoghi, un luogo A e un luogo B. I luoghi possono essere sporchi con della polvere e abbiamo un agente che si muove in questi due luoghi che è un aspirapolvere. Vediamo appunto l'agente aspirapolvere con le ruote appunto l'aspirapolvere. Dunque in pratica abbiamo un insieme di percezioni che vedremo anche nella successiva unità didattica che hanno un ruolo importante e possiamo percepire innanzitutto il luogo dove ci troviamo, se ci troviamo nella stanza A o nella stanza B, si suppone che ci sia una porta di passaggio e poi possiamo anche percepire se il pavimento della stanza A o della stanza B è sporco. Per quanto riguarda le azioni a disposizione, cioè quello che ci fanno transire da uno stato all'altro, abbiamo l'azione di muoversi da destra verso sinistra o verso destra, aspirare oppure non fare nulla. Dunque il dominio in questione prevede che nel caso in cui ci sia una sequenza di percezioni mi trovo nella stanza A e la stanza A è pulita, ciò che deve fare l'agente è spostarsi a destra nella stanza B. Se mi trovo invece nella stanza A e la stanza A è sporca, allora devo aspirare. Se mi trovo nella stanza B e la stanza B è pulita, devo andare a sinistra e così via. Vi vedete appunto per ogni sequenza di percezioni c'è l'azione che dovrebbe essere compiuta. Quindi in pratica quello che andiamo a definire è uno spazio degli stati composto da otto stati perché abbiamo due stanze, quindi la gente si può trovare in una stanza o in un'altra. Ciascuna delle due stanze può essere poi pulita o sporca. Quindi abbiamo insomma tre proposizioni, quindi due voli di verità ciascuna, due a tre, otto possibili stati. E qui abbiamo anche le possibili transizioni fra uno stato all'altro, cioè le azioni che possiamo avere a disposizione. Quindi per esempio da questo stato qui, andando a destra si va in quest'altro stato e così via. Qui abbiamo quindi diagrammato tutto lo spazio degli stati e quindi la situazione che possiamo fare, che ho riportato qui sotto, è che con azioni deterministiche è facile determinare uno spazio degli stati ben definito e il percorso sarà una semplice sequenza di azioni come abbiamo imparato a fare in questo modulo didattico e nei moduli didattici precedenti. L'azione non terministica è un'azione che, al contrario di quelle che abbiamo modellato un attimo fa, possono avere delle conseguenze che, come dicevo prima, possono non poter essere previste del tutto in maniera priori. Per esempio, supponiamo di modellare l'azione di aspirare di un aspirapolvere realistico che non sempre funziona o perlomeno non sempre funziona bene. E lo possiamo modellare in questa maniera, conoscendo i difetti a cui può andare incontro il nostro aspirapolvere. Potremmo, ad esempio, pensare che l'aspirapolvere eventualmente è difettoso, qualora la stanza fosse sporca, normalmente la pulisce, però è previsto che a volte possa pulire anche l'altro. Qui stiamo modellando un difetto di potenza o, se volete, un difetto di posizionamento, cioè l'effetto di potenza per eccesso, e cioè l'aspirapolvere si suppone che a volte abbia un'aspirazione talmente potente che pulisce non solo la mattonella in cui si trova, ma anche l'altra mattonella o l'altra stanza, se volete, stiamo ovviamente generalizzando. E ancora un'altra possibile malfunzionamento, funzionamento anomalo, se il riquadro, se il pavimento è pulito non fa nulla, ma a volte potrebbe anche, magari quando il sacchetto della polvere è pieno, potrebbe una parte della polvere fuoriuscire dal sacchetto e riversarsi, quindi in pratica l'aspirapolvere, invece che pulire, potrebbe sporcare quella porzione di pavimento. Allora, in pratica, se le azioni sono deterministiche, l'effetto è che, stante in un certo stato, sapendo che in quello stato quell'azione può essere compiuta, se l'azione è deterministica, sappiamo che si transita da quello stato a un altro particolare stato successivo. Se l'azione non è deterministica, non sappiamo in quale stato andremo a finire. Lo potremo sapere solo, in teoria, dopo che l'azione sarà stata compiuta. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rinunciare a fare della ricerca in spazio dei stati? No. È semplicemente che qualche cosa cambia proprio concettualmente nel percorso soluzione. In pratica, fino adesso, abbiamo supposto che il percorso soluzione fosse una sequenza di azioni, quindi in pratica una lista. Qui, come stiamo per vedere, non è più una lista, ma diventa un albero, cioè quella che in inglese si chiama piano di contingenza. Quindi non è un piano lineare di azioni, ma è un piano che, in alcuni punti del piano, potrebbe, in qualche maniera, prevedere di dover seguire più percorsi contemporaneamente, perché in qualche maniera ci si vuole mettere al sicuro, al riparo, avere un piano, non solo se le cose fanno tutto bene, questo sarebbe il piano A, ma anche un piano B, un piano C, e così via, a seconda se, in determinate circostanze, le cose potrebbero andare male. Quindi, in pratica, con un'azione non deterministica di questo tipo, partendo, per esempio, dallo stato 1, in cui tutte e due le stanze sono sporche, e dovendo ad arrivare in una situazione come la 7, o come la 8, in cui tutte le due stanze sono pulite, indipendentemente poi da dove si trovi l'aspirapolvere, il piano sarà, certamente, aspira, e questo potrebbe portare alla pulizia della stanza 1, e quindi, semplicemente, si transirebbe dallo stato 1 allo stato 5, ma a causa del non determinismo delle conseguenze di quest'azione, potremmo transire dallo stato 1 direttamente allo stato 7, e questo perché nello stato 1 abbiamo che la stanza di distruttura l'aspirapolvere è sporca, e quindi parte l'indeterminismo legato all'azione, ma a volte pulisce anche l'altro. Quindi il piano sarebbe aspira, nello stato 1, dopodiché vai a vedere se lo stato in cui sei andato a finire è il 5, se hai il 5, quindi hai dato tutto come previsto, vai a destra e aspira. Se invece non sei nel 5, questo vuol dire che sei nel 7, allora non fai nulla. Quindi in pratica la soluzione, da questo esempio già si capisce, per questo il piano di contingenza, questo è contingency plan, vuol dire che c'è un if, c'è una condizione, una condizione che deve essere in qualche maniera verificata a posteriori, cioè dopo che l'azione è stata compiuta, e in pratica quello che abbiamo non è di fatto una sequenza di linearizzazione, ma è un albero. Cioè in pratica quello che andiamo a delineare, lo scenario che si va a delineare, è quello di un grafo indoor. Cioè in domini non deterministici, sia lo spazio degli stati che l'albero di cerchio, sostanzialmente hanno un altro tipo di nodo, il nodo cosiddetto end, qui rappresentato dal cerchio. Il cerchio è un nodo end, invece il rettangolo, insomma lo stato che abbiamo già visto, è un nodo OR. In pratica cerchiamo appunto di focalizzare bene anche dall'esempio. Se siamo nello stato 1 abbiamo due possibili azioni a disposizione. Possiamo o andare a destra o aspirare. E a questo punto, a seconda appunto del determinismo o non determinismo delle azioni, potremmo avere delle possibilità che noi dobbiamo poter contemplare l'esame di più alternative. Supponiamo ad esempio che abbiamo aspirato, poiché l'azione di aspirare che abbiamo appena definito non è deterministica, potremmo essere transiti, come abbiamo fatto all'esempio precedente, o nello stato 7 o nello stato 5. Allora, quello che dobbiamo fare è concepire una soluzione del nostro problema che esamina entrambi questi casi. Ecco perché questo è un nodo end. Quindi, se siamo nel 7, siamo arrivati a un gol e quindi non dobbiamo fare più nulla. Se invece siamo nello stato 5, dobbiamo vedere cosa possiamo fare nello stato 5. Nello stato 5 possiamo o aspirare, oppure andare a destra. Se aspiriamo, cosa succede? A causa del non determinismo dell'aspirazione, sappiamo che se il riquadro è pulito potrebbe o lasciarlo pulito, oppure potrebbe risporcarlo. Ecco, andiamo in un nodo end, in cui dobbiamo prendere in considerazione entrambe queste possibilità. Se siamo andati a finire in uno stato 5, in pratica siamo tornati da dove stavamo, cioè in pratica non è cambiato niente, e quindi abbiamo un loop. Se abbiamo sporcato, siamo tornati in uno stato 1 e quindi di nuovo c'è un loop. Se invece siamo andati a destra, con l'aspirapolvere, abbiamo di nuovo un nuovo end, che però c'è un solo congiunto, questo è un nuovo end, perché l'azione di andare a destra era deterministica. E qui, sostanzialmente, appunto, siamo a destra. A questo punto di nuovo possiamo o aspirare, oppure andare a sinistra. L'azione di andare a sinistra è deterministica, quindi produce un nodo end con un solo congiunto. L'azione di aspirare non è deterministica, però, appunto, nel caso in cui c'è dello sporco, l'alternativa è che può aspirare semplicemente, in tal caso di fare uno stato 8, oppure può aspirare e pulire anche l'altra stanza. Ma l'altra stanza era già pulita, quindi sempre uno stato 8 si andrebbe a finire, quindi questo è uno stato 8, uno stato gollo. Se invece siamo andati a sinistra, siamo andati in questo stato qui, che è lo stato 5, e quindi c'è un loop, e così potete vedere anche dall'altra parte. In pratica, la soluzione di un problema di ricerca, nello spazio degli stati in cui le azioni sono modellate come azioni non deterministiche, è un grafo end or, e la soluzione sarà un sottoalbero end or, che ha un nodo obiettivo in ogni foglia, che in corrispondenza di un nodo or, sceglie un solo successore da espandere, mentre, ed è qui la novità, nel caso di un nodo end, vengono espansi tutti i successori. Perché vogliamo metterci al riparo da qualunque indeterminatezza, e quindi vogliamo concepire un piano, che quindi sarà un albero, non sarà un piano lineare, ma sarà un sottoalbero appunto, che è in grado di fronteggiare qualunque evenienza che si dovesse poi verificare nella pratica, quando poi il piano è così sintetizzato, vi ricordo che stiamo facendo tutto offline, ovviamente, tutto prima che poi il piano venga messo in esecuzione, e vogliamo metterci al riparo da qualunque eventualità che possa poi di fatto verificarsi all'atto di esecuzione del piano stesso. Quindi abbiamo introdotto sostanzialmente il concetto di grafo endorro e di sottoalbero endorro come soluzione di un problema rappresentato come grafo endorro. Quindi generalizziamo questo concetto. Un problema che può essere scomposto sotto problemi indipendenti, e questo è un concetto che in realtà è un nuovo concetto. Quello che adesso sto dicendo in questo slide è che questa metodologia che abbiamo introdotto per risolvere problemi di ricerca in cui le azioni sono endoderministiche, cioè il grafo endorro, lo possiamo utilizzare anche per risolvere problemi di altra natura. In generale, quando un problema può essere scomposto sotto problemi indipendenti, può essere conveniente rappresentarlo come grafo endorro in cui i nodi orro rappresentano un problema scomposto in sotto problemi figli almeno uno dei quali deve essere risolto. Il nodo end rappresenta invece un problema scomposto in sotto problemi figli che devono essere tutti risolti. Cioè il grafo endorro che abbiamo introdotto per modellare problemi di ricerca con le azioni endoderministiche, adesso, visto che ci siamo, lo proponiamo anche come metodologia alternativa a quella che abbiamo già visto per risolvere problemi complessi, qualora sia possibile adottare per loro una strategia divide e timpera e sia possibile scompore un problema sotto problemi indipendenti fra di loro. Facciamo un esempio. e prima di fare l'esempio vediamo appunto in generale la soluzione poi del problema una volta che sia stato rappresentato come un grafo endorro scomposto come un grafo endorro sarà un sottoalbero costituito da un albero endorro in cui la radice, come abbiamo detto prima, è il nodo di partenza. Ogni nodo or dell'albero ha esattamente un figlio nel sottoalbero soluzione e ogni nodo end del sottoalbero soluzione ha tutti i suoi figli nel sottoalbero soluzione e l'albero deve essere tale per cui le foglie dello stesso, l'albero soluzione del problema rappresentato come un grafo indorro deve essere tale per cui tutte le sue foglie devono essere dei nodi foglie del grafo indor originario nel nostro caso dei nodi Gol Facciamo un esempio abbastanza sorprendente, credo e cioè riprendiamo di nuovo il problema della ricerca nelle strade della Romania e affrontiamolo proprio in questa maniera invece che affrontarlo con tutte le tecniche che abbiamo visto fino adesso lo affrontiamo proprio considerandolo un problema complesso divisibile, scomponibile sotto problemi indipendenti come si fa a scomporre la ricerca nello spazio delle strade in sotto problemi indipendenti e supponiamo ad esempio di poter spezzare il grafo di poterlo sessionare in corrispondenza di punti in qualche maniera nevragici per esempio supponiamo che ci sia una cesura qui un fiume in qualche maniera che attraversi le strade di Sibiu e di Lugoi e quindi sostanzialmente per andare dalla parte sinistra del grafo dalla parte ovest alla parte est bisogna passare per forza per Sibiu e per Lugoi e effettuiamo qui la cesura e quindi noi possiamo dire per esempio se avevamo il problema di andare da Arad a Bucharest possiamo scomporre questo problema in due problemi indipendenti e cioè abbiamo due alternative per andare da Arad a Bucharest o passare per Sibiu o passare per Lugoi e quindi dobbiamo in qualche maniera risolvere uno di questi due problemi almeno uno di questi due problemi o andare da Arad a Bucharest passando per Sibiu o andare da Arad a Bucharest passando per Lugoi se scegliamo di passare per Sibiu a questo punto possiamo fare una possiamo dire che per andare da Arad a Bucharest passando per Sibiu bisogna andare da Arad a Sibiu e poi da Sibiu a Bucharest questi due problemi dobbiamo risolverli entrambi perché dobbiamo muoverci da Arad a Sibiu e poi da Sibiu a Bucharest e li possiamo pensare questi due sotto problemi indipendenti addirittura effettuati in momenti diversi del tempo quindi possiamo pensare indipendenti e poi pensando all'indipendenti notiamo che abbiamo andare da Arad a Sibiu è già un nodo foglia abbiamo un arco diretto che collega Arad a Sibiu per cui lo consideriamo sostanzialmente un problema risolto perché già guardando il database che rappresenta lo spazio degli stati c'è l'arco che collega Arad a Sibiu non dobbiamo scomporre più problema questo sotto problema è un problema risolto per andare invece da Sibiu a Bucharest possiamo di nuovo sezionare la parte orientale dell'attrante stradale della Romania fare una cesura che passi per Fagaras e per Pitesti per esempio quindi tagliare ulteriormente in due l'attrante stradale e quindi decidere se andare da Sibiu a Bucharest passando per Fagaras o passando per Pitesti di queste due due alternative una delle due dovremmo seguire supponiamo di seguire la prima quella di passare per Fagaras quindi a questo punto possiamo dire ok da Sibiu a Fagaras la Sibiu a Bucharest si può andare si deve andare andando da Sibiu a Fagaras e poi anche da Fagaras a Bucharest a questo punto notiamo che entrambe questi problemi sono già risolti perché esiste un arco che collega direttamente Sibiu a Fagaras e un altro che collega direttamente Fagaras a Bucharest di questo nodo verde dobbiamo risolvere uno solo dei due sottoproblemi e quindi sostanzialmente il problema è risolto è risolto da questo sottoalbero che risponde ai criteri di sottoalbero di soluzioni di grafie and or e cioè per ogni nodo or bisogna espandere solo un figlio in corrispondenza invece dei nodi end bisogna espandere tutti i figli qui abbiamo un nodo on or è stato espanzo un solo figlio abbiamo un nodo end sono stati espansi tutti i figli e poi sottoalbero soluzioni deve essere tale per cui tutte le foglie sono soluzioni sono goal in qualche maniera sono problemi risolti ecco quindi in generale la tecnica che stiamo per vedere che abbiamo ripeto introdotto per modellare le azioni non terministiche la possiamo comunque utilizzare per risolvere problemi comunque complessi questo è in generale l'algoritmo che è un algoritmo con il pseudo linguaggio imperativo non dichiarativo per risolvere i grafi indoor quindi andiamo a dare un'occhiata abbiamo un grafo indoor e l'algoritmo deve restituire un piano condizionale quindi un sottoalbero descritto come abbiamo cercato di spiegare poco fa oppure un fallimento ovviamente qualora non esista una soluzione quindi il concetto importante è che situeremo non un percorso lineare ma un albero come soluzione del problema di ricerca e la ricerca parte fa partire innanzitutto la ricerca OR come abbiamo visto la funzione di ricerca OR partendo tra lo stato iniziale del problema con un albero all'inizio che è una soluzione che è un albero vuoto la funzione di ricerca OR prende uno stato il problema definito come grafo indoor e dovrà restituire un cammino percorso fino a quel momento dovrà restituire un piano condizionale quindi innanzitutto si va a verificare se lo stato è uno stato obiettivo in questo caso non c'è niente da fare il il goal è già stato raggiunto e non c'è più niente ulteriore non c'è più altro da fare se lo stato è sul cammino allora restituiamo fallimento perché vuol dire che non si può espandere perché altrimenti andremo in un loop dopodiché per ogni azione che è possibile compiere in quello stato andiamo a concepire un piano e andando a vedere quelli che sono i risultati dell'azione compiuta in quello stato per quel problema e aggiungendo lo stato al cammino e tutto questo lo chiamiamo piano se il piano è diverso dal fallimento allora viene restituita l'azione altrimenti viene restituito fallimento attenzione quello che appunto non ho fatto notare è che la ricerca or ha mandato qui in esecuzione la ricerca end quindi ha chiamato la funzione ricerca end la ricerca end è simile alla ricerca or solo che alla ricerca end vengono passati i risultati del compimento della particolare azione che è stata scelta qui nello stato e quindi siccome l'azione potrebbe essere non deterministica potrebbe in qualche maniera generare più stati in questo caso si chiama ricerca end e la ricerca end li esamina tutti quegli stati e per ogni stato per ogni stato negli stati restituiti fa partire la ricerca or quindi in pratica e la ricerca or che cosa fa restituirà un un cammino e quindi sostanzialmente si andrà a generare una soluzione per ogni stato prodotto in corrispondenza di un nodo end le cose da notare sono che la ricerca or chiama la ricerca end e la ricerca end chiama la ricerca or quindi questo è un algoritmo ricorsivo incrociato e ecco quindi questo è l'algoritmo in generale se lo vogliamo risolvere il problema con un approccio dichiarativo alla prolong le cose sono un po' più comprensibili un po' più dirette è un po' ironico perché qui ho riportato l'esempio che stiamo trattando di grafo endor trattare i grafi endor in prolog è qualcosa che resenta la banalità perché quello che noi dobbiamo fare innanzitutto è rappresentare il grafo il grafo dopodiché una volta che abbiamo trovato una rappresentazione console dobbiamo andare a trovare la soluzione come abbiamo descritto come abbiamo detto finora dunque un modo semplice per rappresentare un modo ovvio per rappresentare un grafo endor è quello che ho portato qui in questa slide in pratica sostanzialmente ricordiamoci che il nodo or sostanzialmente ha deve in qualche modo essere dato un nodo or deve essere esaminato uno solo dei suoi successori quindi possiamo dire che A sarà vera se è vero B oppure A sarà vera se è vero C in corrispondenza invece di un nodo and possiamo aggiungere una clausola che dice che il nodo and in questione per esempio B sarà vero solo se sono veri tutti i suoi figli in questo caso ce ne sono solo due di figli D ed E e quindi B se D ed E in corrispondenza di un nodo foglia possiamo semplicemente dire che a quel nodo foglia corrisponde un fatto quindi quel nodo corrisponde a un fatto una verità a prescindere quindi è una verità incondizionata e poi ad E E sarà vera se è vero F o se è vero G E se è F o se è G F sarà vero se è vero L e è vero M e così via L sarà un fatto M sarà un fatto P sarà un fatto a questo punto per cercare per sapere se un problema rappresentato come grafo Endor è risolvibile basta lanciare come goal la radice del grafo e il prologue risponderà vero falso a seconda se la computazione SLD terminerà con una clausola vuota o meno andiamo a vedere banalmente in questo esempio se si lancia A si sceglie la prima clausola si va a provare B B cercherà di provare D ed E D sarà automaticamente provato subito e cercherà di provare F F cercherà di provare L L è vero e poi F cercherà di provare anche M M è vero e a questo punto il prologue risponde true quindi sostanzialmente ha generato il sottoalbero che rappresenta proprio la soluzione di questo problema Endor e quindi sappiamo che il problema è risolvibile però questo modo di risolvere il problema è banalissimo in prologue però non ci fornisce la soluzione si dice solo che c'è una soluzione e poi in presenza di cicli va in loop questa qui è una rappresentazione del medesimo problema un pochino più elaborata che ci porterà poi verso la soluzione definitiva anche questa qui non ci restituisce la soluzione però è un po' più interessante è sempre come vedete implementa in pratica una ricerca che si intuisce depth first ma andiamo a vedere dall'inizio questa rappresentazione qui introduce due operatori una freccia a sinistra e due punti che saranno utilizzate per meglio rappresentare il grafo più conveniente in pratica il grafo sarà rappresentato da questo database che vedete una clausola che avrà predicato la freccia che ha come argomento due argomenti a a sinistra e or in pratica questa clausola dice che il nodo a è un nodo di tipo or e ha due figli b e c quest'altra dice che il nodo b è un nodo and e ha due figli d e d quest'altra qui dice che d è un nodo goal questa dice che c è un nodo and e ha due figli h e d e è un nodo or e ha due figli f e g f è un nodo and e ha due figli l ed m l è un goal m è un goal g è un nodo and e ha due figli o e p o p è un nodo goal o non c'è qui mi pare non c'è e quindi qui ci sarà una continuazione ma non è per mancanza di spazio non ce l'abbiamo messo l'algoritmo per andare a risolvere il problema indoor eccolo qui è un algoritmo da first risolvi se e gli passo il nodo che deve espandere se il nodo è il nodo soluzione non deve fare proprio nulla siamo arrivati alla fine altrimenti andiamo a vedere se è un nodo or se il nodo è un nodo or se è un nodo or andiamo a prendere i suoi figli e tramite il member non deterministico andiamo a prendere uno dei suoi figli e lo risolviamo perché ricordo in corrispondenza di un nodo or bisogna espandere solo uno dei figli quindi espandiamo uno dei figli quindi questa è una ricerca che va in profondità se il nodo in questione è un nodo di tipo and la clausola 3 e i nodi saranno i figli del nodo and dobbiamo risolvere tutti i suoi figli risolvere tutti significa che dobbiamo prenderli uno a uno risolvere la testa e poi ricorrere sulla coda fin quando non abbiamo terminato la coda sia vuotata in pratica questo è lo stesso algoritmo di prima semplicemente reso più esplicito è più chiara la natura del database cioè la rappresentazione graffendor e soprattutto è più chiara la natura di questo modo di trovare la soluzione che è in def first che ovviamente fa sì che non troveremo il percorso ottimale la soluzione ottimale ma avremo un'occupazione di memoria finita quello che vediamo adesso è una generalizzazione di il percorso di perché anche la soluzione il database è lo stesso la rappresentazione degli operatori è la stessa il programma è lo stesso solo che abbiamo aggiunto un secondo argomento che ci restituirà il nostro programma in questo secondo argomento l'albero soluzione del graffendor nel caso in cui stiamo espandendo un nodo gol allora l'albero che deve essere restituito è il nodo stesso nel caso in cui il nodo che stiamo espandendo è un nodo or e dobbiamo andare a prendere un albero che sarà il sottoalbero di questo nodo or e come facciamo andiamo a prendere i nodi successori del nodo or e mediante il member come abbiamo visto prima ne prendiamo uno solo e risolviamo solo su quello e quindi in corrispondenza solo di quel nodo lì andiamo a generare l'albero il sottoalbero parte del piano di contingenza che deve essere restituito come soluzione del grafo indoor nel caso in cui invece il nodo che dobbiamo espandere è un nodo di tipo end allora dobbiamo risolvere tutti come abbiamo appena visto i nodi e dobbiamo restituire l'end di tutti i sottoalberi l'end di tutti i sottoalberi quindi non un solo sottoalbero ma l'end di tutti i sottoalberi e lo facciamo con risolvi tutti come abbiamo visto prima che sostanzialmente non fa altro che per ogni nodo andare a generare il corrispondente sottoalbero soluzione e quindi questo già è la nostra soluzione in pratica lo possiamo compilare e generare lanciare lanciamo risolvi lo risolvi in corrispondenza del nodo A restituisci albero soluzione e l'albero è questo qui è un albero che dice che da A devi prendere poi il figlio B e non C il figlio B è un end quindi devi prendere sia D che E D stop non c'è più niente da fare in corrispondenza di E poi devi prendere anche il figlio F che è un nodo end devi prendere L e poi qui non si vede bene allora siccome il prologue non è che è molto smart nel restituire variabili con strutture complesse ci siamo anche fatti un predicatino ausiliario mostra che ve lo vedete con calma per conto vostro sia interrompendo questa videoregistrazione che andando eventualmente a esaminare le slide che sono associate e in pratica questo programmino è un programmino che non c'entra niente con il nostro problema però ci serve per poter scrivere l'albero scrivere in output il termine che rappresenta l'albero ruotando di 90 grandi quindi scrivendolo invece che dall'alto verso il basso da sinistra verso destra assumendo che ogni nodo sia descritto da un carattere quindi occupi lo spazio di un carattere quindi è un modo un po' artigianale di visualizzare in pratica noi gli diamo l'albero e questo predicato ce lo scrive sull'output e lo vedete con calma in pratica quindi io per vedere l'albero rilancio lo stesso goal poi lancio mostra passandogli il termine restituito dal primo goal e il risultato mostra l'albero ce lo scrive in maniera estesa per quanto può da sinistra verso destra quindi sotto albero soluzione prevede che si parta dall'azione A si va dallo stato A si va nello stato B in corrispondenza allo stato B si esaminiranno entrambe le eventuali conseguenze dell'azione e nel caso D abbiamo raggiunto il nostro obiettivo se invece sarà dovesse essere il risultato dell'azione che posta in atto in B transire nello stato E nello stato E a questo punto se siamo qui andremo a compiere questa azione che ci porterebbe in F dopodiché abbiamo questa azione che ci porta in uno stato N in cui però entrambi gli stati L ed M sono una conclusione del nostro problema e quindi abbiamo finito bene con questo si conclude questa unità didattica dedicata alla presentazione della tecnica che è la risoluzione mediante grafo indoor con cui andiamo a trattare problemi in cui le azioni sono non deterministiche il concetto più importante è che se le azioni sono deterministiche la soluzione del piano non sarà un piano lineare una sequenza lineare di azioni ma sarà un piano di contingenza cioè sarà un sottoalbero in corrispondenza del quale per ogni nodo OR si dovrà generare un solo successore per invece i nodi AND si dovranno esaminare tutti i possibili successori che nasce il sottoalbero di un po' Grazie a tutti